Non è bastato l'annuncio del Presidente della Regione Gianni sul vincolo a tre anni per la nave rigassificatrice a Piombino per sedare gli animi dei cittadini. Battaglia annunciata contro il cosiddetto bombolone, nonostante le rassicurazioni su contropartite e durata dell'intervento. A Capitanari contrare il Sindaco di Fratelli d'Italia, Francesco Ferrari, che ha investito un pool di tecnici di preparare un ricorso da presentare al TAR. Anche se non si dice apertamente, i toni dello scontro sono però direttamente proporzionali alle contropartite che la Regione riuscirà a garantire alla città negli anni duramente colpita dalla crisi delle acciaierie e da una serie di promesse mai mantenute. Proprio la bonifica dell'area e il futuro delle acciaierie Gindal sono due dei capitoli che Gianni ha messo sul piatto del Governo per concedere l'autorizzazione a portare la Golar Tundra a Piombino, con i lavori che partirebbero già ad ottobre. Ci sono poi gli sconti alla bolletta energetica che proprio grazie al rigassificatore ospitato in porto garantirebbero importanti agevolazioni per i cittadini, ma su questo è ancora tutto da trattare. Intanto, nuove manifestazioni e sit-in sono annunciati per protestare contro l'opera. Il prossimo, in programma sabato, potrebbe portare in corteo oltre 5.000 persone, almeno secondo gli organizzatori. Un fronte avverso che per il presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, poteva essere gestito diversamente. Penso che i rigassificatori, se vogliamo essere coerenti, la nostra storia serve. È necessario. Dall'altro lato ci sono comunità locali, perché quello che dico io è questo. Ci sia un'opposizione netta, che viene diffusa, non è del sindaco Ferrari e basta. Allora, prendiamoci cura di quelle paure. A Ravenna, dall'altra parte, diciamo nel nostro paese, ci dice, c'è un sindaco, mio amico, con cui ho parlato, Michele Pascale, sindaco di Ravenna. È una comunità che dice, noi siamo pronti. Capisco che quindi ci sono delle possibilità di poter spiegare al sindaco Ferrari, che rappresenta una comunità intera, quelle che sono le risposte a delle paure.